Bentrovati, un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Oggi parliamo della possibilità di esportare il video da Premiere Pro direttamente con i sottotitoli. Abbiamo già visto qualche lezione fa come fare per inserire i sottotitoli in timeline, oggi vedremo come esportare i sottotitoli direttamente stampati a fuoco, marchiati a fuoco dentro al nostro video. Ovviamente la condizione è che esista già la traccia sottotitoli inserita, configurata con tutti i nostri sottotitoli, qui ne ho fatto uno di prova. Quando andremo ad esportare ovviamente se non facciamo nulla il nostro sottotitolo però non verrà inserito nel video. Oibo, perché? Perché dobbiamo abilitarlo. Lo vediamo adesso nella finestra di esportazione, ci posizioniamo sulla tab sottotitoli e qui abbiamo una voce da accendere. Tra le opzioni di esportazione e di default la voce spuntata è nessuno. Ed è questo il motivo per cui quando esportate un video con i sottotitoli senza fare nulla il video non conterrà i vostri sottotitoli. Quello che dovete fare per stampare i sottotitoli insieme al vostro video è scegliere la voce che masterizza sottotitoli nel video. Quando andrete ad esportare, vedete già l'anteprima che si popola, il vostro video avrà anche i sottotitoli che avete inserito nella vostra timeline. Una piccola nota a margine c'è un'altra voce che è Crea file collaterale e questa opzione ci permette di creare un file a parte per i sottotitoli. È un'opzione un po' avanzata per chi ama smanettare un pochettino di più, giocateci se ne avete voglia, è simile alla voce file esporta sottotitoli, forse un pochettino più completa. Mi fermo qui per il momento, nel prossimo video tutorial parleremo delle opzioni di pubblicazione, ovvero come pubblicare il nostro video sui nostri social network preferiti, quindi su Facebook, YouTube, Vimeo e quant'altro direttamente dopo l'export. Quindi esportate il video e Premiere penserà a lui a caricarlo e a pubblicarlo sui vostri social network preferiti. Ma ne parleremo nel prossimo video tutorial, per il momento www.fabiambrosi.it, sito dove troverete l'indice con gli argomenti del corso base di Premiere Pro, che ormai giunge alla fine, ma per chi si fosse perso qualche lezione può recuperare tutto lì. Iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial, ovviamente mettete un like alla pagina Facebook Fabio Ambrosi. Ci vediamo online al prossimo video tutorial. Ciao, grazie!